Benvenuti da Claudio Brachino, questa nuova puntata di primo piano elezioni europee, insomma l'abbiamo raccontato più di un mese e mezzo fa, insomma prende il nostro vecchio format, cioè conoscere l'attualità attraverso un'intervista e non un talk, un one to one classico in tutti i campi e declinarlo sulle elezioni europee dove insomma noi vi facciamo conoscere i candidati e i leader di tutti i partiti che si presentano al voto dell'8-9 giugno domani e dopodomani, quindi oggi è l'ultimo giorno e in merito ovviamente anche alle loro idee, ai loro programmi, insomma è tutto quello che c'è da dire in un'intervista politica. E ho accettato il nostro invito in extremis direi perché manca poco Claudio Borghi, benvenuto, dove si trova lei Borghi in questo momento? Buongiorno, al momento sono a Milano. Milano, allora, e poteva venire qui in studio insomma anziché fare il collegamento, insomma vabbè è più comodo da casa. Ma sono qua per sbaglio, adesso fra poco riparto per la Toscana. Però insomma mi è impegnato se non sbaglio nella campagna elettorale, insomma candidato per la Lega nella circoscrizione del centro, giusto? Esatto. Quante regioni ci sono nel centro? Lo dica un po' che tutti lo ripetono, così facciamo pure un po' di geografia del bel paese, insomma. È possibile votarmi in Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Va bene. Allora, senta, poi arriviamo in fondo. Non ho sentito. Ma le più belle regioni d'Italia, sono solo quattro, ma sono bellissime. Eh vabbè, dai, quegli altri che si cantano in un'altra parte sono le più belle. Io da giorno ho lavorato con De Filippo, professore di trammaturgia all'Università di Roma, che ci raccontavo che ogni volta che andavo a fare uno spettacolo in un posto tipo Firenze, Bologna, dicevo voi sì che siete grandi, non i bolognesi. Quando andavo a Bologna dicevo, non voi sì che siete grandi, non i fiorentini. Però insomma era divertente, insomma, no? Arte della drammaturgia, insomma, che fa parte anche un po' della politica. Ma dai, la bellezza, non so, tipo della Toscana, dell'Umbria e così sono indiscutibili. Io sono viderbese, anche se vivo a Milano. Quindi allora, prima di venire alla polemica con il Presidente della Repubblica, che glielo chiederò come cronista politico, queste interviste, come ho detto, servono un po' anche a precisare un po' la storia delle persone, anche le idee con cui ci si pone il fonte, diciamo, un game elettorale. Allora lei, come storia politica personale e anche come cervello economico della Lega, sull'Europa non è stato mai tenero. Cominciamo dall'Europa economica, no? Adesso è di là del no euro o meno, insomma, ma questa Europa economica, quella del patto di stabilità, quella che con le dovute differenze di autonomia porta i tassi di interesse a 4,5, anche se ieri è stato abbassato di un quarto di punto, ma alcuni suoi colleghi di partito hanno già fatto comunicati dicendo che si tratta di manovre elettorali. E insomma, alla fine è un'Europa che non le piace perché e che cosa deve fare l'Europa economica per venire in conto alle esigenze dei cittadini che la compongono. Ma io nella vita facevo tutt'altro, ero un dirigente di banca internazionale, insegnavo all'università qui in Cattolica a Milano. Tutto il mio, diciamo, attivismo politico nasce da consapevolezza e la critica nei confronti dell'Unione Europea, in particolar modo nel periodo della Grecia. Cioè, vedere, per chi si ricorda, un tale scempio della democrazia dove le persone venivano costrette a votare un referendum con le banche chiuse un mese prima, dove i rappresentanti dei cittadini venivano bullizzati all'interno di strutture antidemocratiche, come poteva essere l'Eurogruppo o similari, mi aveva fatto capire che c'erano dei grandi rischi, anche perché quando ho visto fare la follia di far fallire il debito pubblico greco, la prima cosa che mi è venuta in mente è che ho detto che i prossimi siamo noi. E quindi, diciamo, è stata veramente una consapevolezza. E infatti poi c'è stato lo spread, ce lo ricordiamo tutti purtroppo, e l'estromissione di Berlusconi democraticamente eletto con Monti. Ecco, è una cosa che io non potevo tollerare, sinceramente. E allora ho cominciato la mia attività politica esattamente sulla critica della parte economica dell'Unione Europea. Io penso che l'Unione Europea, quando era la CE, la Comunità Economica Europea, tutti andavano d'accordo, cioè ci si voleva bene, ci si coordinava, c'era uno spirito anche europeo positivo. Dopodiché, con l'Unione Europea, quindi mettendo in comune i soldi, facendo partire le regole strane, i parametri, la spesa, il debito, l'austerità, a un certo punto ha cominciato a rendersi conto che quella che era una comunità di amici era diventato un condominio di persone che si odiano, cioè persone che mettevano il naso nei conti degli altri a sproposito. Perché noi in Unione Europea abbiamo sempre pagato, noi siamo sempre stati dei contributori netti e abbiamo sempre avuto della gente che ci faceva la paternale, che ci diceva cosa dovevamo fare. Insomma, a me non sta bene, io punto a cambiare questo status quo. Senta, però le dico, faccio un po', questo non è un talk, devo fare un po' come cronista all'avvocato del diavolo, no? Però molti dicono anche che in questo periodo, dalla crisi che giustamente lei ha ricordato, perché è stata una cosa terribile, quella della Grecia, l'Europa ha fatto un po' di passi avanti nella solidarietà di condominio, no? con la grande ferita del Covid, ha partorito un fondo comune per curare i danni del Covid, piaccia o non piaccia, Recovering Fund, che poi si chiama Next Generation, per noi è diventato PNRR, in parte sono soldi e debiti, in parte no, ma insomma, una montagna di danari dato un po' a tutti. Draghi per esempio ha fatto un documento, un mese fa circa, dicendo che è necessario mettere insieme addirittura i debiti, quindi poi anche se è stata all'Europa, non so quanto le è piaciuto o meno, che ha dato una risposta unitaria al Covid anche con i vaccini, cioè qualche passo avanti è stato fatto o no? Ma non le piace neanche questo? Adesso glielo chiedo perché siamo entrati in un periodo storico diverso da quel contesto lì della Grecia, no? No, secondo me è ancora più suddolo, mi verrebbe da dire, no? Diciamo, forse si sono accorti che il sistema greco era troppo sfacciato per poterlo mantenere e il progetto, diciamo così, di superstato europeo sta andando avanti con dei sistemi che sono, diciamo, meno aggressivi ma ugualmente pericolosi. Il PNRR, non so se notate, nessun altro Stato al mondo ha il PNRR, vivono benissimo anche senza il PNRR, perché? Perché normalmente c'è una banca centrale che garantisce il debito e quindi se, che ne so, la Norvegia piuttosto che la Polonia, piuttosto che la Danimarca, piuttosto che il Messico, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, dite voi quello che volete, hanno bisogno di soldi per costruire un'infrastruttura, lo Stato emette titoli di Stato, se ci sono acquirenti fra i cittadini, bene, se non ci sono ci pensa la banca centrale e con quel denaro si fa l'infrastruttura che viene considerata utile. Solo da noi invece hanno congegnato questo sistema per ottenere esattamente la stessa cosa che hanno tutti gli altri paesi senza nessun problema, ma con un controllore centrale che decide lui che cosa devi fare, che cosa non devi fare. In certi casi anche con dei sistemi paradossali, cioè io credo che molte delle opere del PNRR giaceranno a metà, perché i prezzi erano tutti diversi quando sono stati congegnati e simili, quindi no, non mi piace questo sistema, penso che sia molto pericoloso. Faccio un esempio di un paio di proposte, entriamo lei che ha eletto, diciamo la Lega mette tanti euro debutati, i vostri voti vanno nel gruppo di identità e democrazia, mettiamo l'identità e democrazia al netto che alcuni estremisti possa fare un accordo con i conservatori e se nasca un governo di centro-destra europeo, omettiamo che andate all'opposizione, ma vi batterete e lei si batterà per fare che cosa su questo piano? Perché la critica l'abbiamo compresa. Poi dopo il problema diventa difficile spiegare ai certitini che sanno poco di governanza europea che cosa bisogna fare, no? So che qui confondiamo le elezioni con quale ha inizio di dire. Ottima domanda. Partiamo dal primo presupposto, cioè se finiamo all'opposizione ancora abbiamo fallito e quindi bisognerà pensare al prossimo giro, come viene da dire. Ovviamente denuncieremo tutto quello che non ci va, però valutiamo più l'altra possibilità. È la prima volta che c'è la possibilità che delle forze eurocritiche, diciamo così, possano ottenere una maggioranza. La scorsa legislatura, la Lega andò benissimo, ma gli altri partiti erano molto più piccoli. In questo caso i partiti eurocritici sono in forte salita in tutta Europa. Allora, una cosa su cui sono tutti d'accordo, abbiamo fatto due riunioni, una Firenze, una Roma, molto grandi con tutti i rappresentanti degli altri paesi, è il meno Europa. Questo è il primo cambiamento. Cioè invece di continuare sulla strada dell'integrazione, quindi sulla cessione della sovranità, il nostro intento sarà far recuperare sovranità ai singoli stati, non avere un Macron che si sveglia la mattina e pensa di poter andare a fare la guerra in nome di tutti che gli altri tutti lo debbano seguire. No, deve esserci la possibilità per i singoli stati di potersi gestire da soli. E la prima cosa, cioè il primo segnale che dovrebbe essere dato da tutte le parti è statuire in modo chiaro che il diritto e la costituzione dei singoli stati prevalgono sul diritto dell'Unione Europea. Perché il fatto che possano arrivare dall'alto delle direttive che ti impongono delle cose magari su cui tu non sei assolutamente d'accordo, come per esempio le case green o similari, è una cosa che deve finire lì. Cioè nel senso noi in Italia non abbiamo nessun bisogno di cappotti termici per le case, viceversa avremo bisogno magari di case antisismiche. In Germania invece della casa antisismica non gli serve per nulla perché fortunatamente per loro non è territorio sismico, ma fa molto predo e quindi magari i cappotti per le case possono anche essere un'idea. Bene, invece di fare sempre la stessa misura, la stessa cosa per certi, riuscire a dare più potere agli stati in modo tale che le cose siano più mirate alle nostre esigenze. Quanto da 1 a 10, quanto non le piace il green deal europeo e se salva qualcosa? Tanto so che cosa ne pensa dall'agricoltura, alle macchine e appunto l'ha già detto adesso anche alle case deficientare, ma salva qualcosa? No, no, non mi piace nulla. L'unica cosa che salvo è una cosa che secondo me non c'è bisogno di salvare perché io penso che una mentalità ambientalista o il desiderio di avere una terra più pulita o similare sia ormai parte del DNA di tutti noi. Insomma, negli anni 70 era uno scempio, cioè c'era gente che riversava nei fiumi qualsiasi cosa e similare. Vedere come era stata conciata la terra ha funzionato, diciamo così, da cura e io sono convinto che adesso sia noi che i nostri giovani soprattutto la mentalità di avere la tutela del nostro territorio ce l'abbiamo senza bisogno che qualcuno ce la imponga. Ecco, mettiamola così. Viceversa tutto il resto è esclusivamente una pazzia che o è mal congegnata se va bene è frutto di qualche tangente da parte della Cina se va male perché non posso pensare che uno faccia delle cose così strane o così senza senso in modo così senza che ci sia un motivo sotto. Ecco, mettiamola in modo tranquillo. Senta, visto che lei è appunto uno degli economisti del partito quando parliamo di digitale intelligenza artificiale innovazione e poi di contrapeso sostenibilità e questo cosa comporta per il lavoro cosa comporta per i giovani cosa si può fare qui a livello europeo perché è chiaro che nelle politiche nazionali ne parliamo tutti i giorni ma quando andiamo in un contesto come questo cosa vuol dire? Che l'Europa deve diventare a sua volta un po' un gigante economico per mettersi in mezzo fra appunto America e Stati Uniti e altre potenze emergenti cosa dobbiamo fare su questi temi che sono i temi dei prossimi anni Vedi, ogni volta che c'è un passaggio di innovazione sempre ci si preoccupa per l'occupazione si pensa che quel salto quando ho iniziato a lavorare io era al computer si pensava che con l'arrivo del computer buona parte degli impieghi sarebbero stati sostituiti io utilizzo come esempio il Giappone spesso e volentieri perché è una nazione che anche dal punto di vista della demografia insomma è una nazione abbastanza antiana economia matura esportatrice è abbastanza simile alla nostra nonostante siano probabilmente uno degli stati più automatizzati al mondo la disoccupazione è zero quindi se noi vogliamo la possibilità di creare lavoro c'è mi ricordo una battuta anzi non era tanto una battuta uno di quei manifesti messi sui lavori in corso c'è una casa in costruzione con scritto chat GPT per favore mi costruisci questa casa non lo può fare quindi diciamo che forse l'intelligenza artificiale può essere che sarà un cambiamento epocale per gli stili di lavoro di tanta gente ma alla fine il lavoro dell'uomo non potrà mai essere la città nel capitale umano diciamo così insomma senta io mi sono occupato per due anni molto della filiera delle PMI che è molto intensa qui al nord ma pochi sanno che ci sono tante PMI in tutta l'Italia anche nella circoscrizione in cui lei si candida queste nostre PMI Marche, Toscana figurarsi anche nel Lazio ce ne sono uno pensa che ce ne siano e ce ne sono alcune importantissime anche nella filiera della farmaceutica e dell'audiovisivo allora queste nostre PMI che insomma il presidente che lei ha contestato poi veniamo in viaggi in Kenya ha detto che è un modello che ci invidia un po' tutto il mondo che cosa le chiedono quando lei va in giro di cosa hanno bisogno meno tasse meno norme sicuro ma rispetto all'Europa che cosa chiedono ma allora la cosa istintiva che normalmente mi chiedono gli imprenditori di solito è meno burocrazia meno tasse cose di questo tipo che sono abbastanza però quando io mi fermo a parlare e gli dico ok va bene su questa cosa siamo tutti d'accordo e tutti vorremmo avere una vita più semplice abbiamo anche delle soluzioni che abbiamo cercato di mettere in pista per venire incontro a queste esigenze ma non è che in realtà anche voi non siete proprio sinceri sinceri con voi stessi perché io penso che ogni lavoratore autonomo ogni imprenditore in realtà voglia più clienti e effettivamente quando nomino il più clienti ecco che secondo me il più clienti diventa prioritario rispetto al magari un po' meno tasse cose di questo tipo ed è sarebbe molto facile ottenere più clienti basterebbe aumentare la domanda interna cioè noi italiani in questo momento stiamo spendendo come è stato meno di quello che potremmo fare perché noi siamo un paese tuttora fortemente esportatore quindi esportiamo di più di quello che importiamo per cui sarebbe possibile per il nostro stato fare più investimenti quindi immagino più infrastrutture più mettere in circolo del denaro diciamo così anche abbassando le tasse aumentando così i soldi nelle tasche dei cittadini e quindi aumentando la spesa non tutti lo possono fare perché ovvio che facendo così si comprano anche beni esteri cioè non è detto che uno che si trova più soldi in tasca compri made in Italy magari compra anche qualcosa fatto all'estero ma noi abbiamo del margine per poter per poter arrivare a un livello pareggiato e quindi io spero che si capisca che tutte queste regole europee che sono quelle dell'austerità del patto di stabilità o similari sono proprio quelle che danneggiano primariamente la nostra piccola media impresa perché non gli consentono di avere quel tipo di sviluppo quel tipo di clienti che magari invece negli anni 80 con un sistema del tutto diverso ha consentito a tante fortune di crearsi lei ci crede chiede le risposte veloci adesso perché il tempo sta comunque possiamo andare oltre i 20 anche se non troppo oltre ci crede in una politica fiscale europea sì no no e a questa cosa se vuole gliela dico proprio brevissimamente sì sì prego perché tutta la costruzione europea è congegnata in modo tale da fare una competizione fra stati cioè quello che c'era stato venduto come ci mettiamo tutti assieme per combattere contro la Cina in realtà è ci chiudiamo in una gabbia e poi la Germania compete contro di Tetu competi contro la Spagna e così via quindi non non siamo strutturati per avere una fiscalità unica ci chiede una politica sanitaria comune beh basterebbe fare una cosa di minimo buonsenso cioè del tipo cuori dai vari fatti di stabilità invece di metterci solo le armi metterci anche la sanità credo che potrebbe essere una cosa su cui in tanti sono d'accordo però anche lì ci si scontra con tante miopie perché secondo lei se il governo fa un decreto un disegno di legge per abbattere in parte le liste d'attesa è un problema di tutti non è un problema subito si grida la misura elettorale e poi l'elettorale o meno bisogna essere la misura fa fare un passino avanti o no il problema oppure no ma il gioco delle parti ovviamente poi oltretutto ricordo sempre che il decreto in questo periodo in questi anni è giusto o sbagliato che sia è una specie di stimolo legislativo che poi dopo arriva alle camere che hanno il diritto di poterlo cambiare come vogliono io per esempio ho già annunciato che a questo decreto inserirò una proposta per l'abolizione della legge Lorenzin quindi per tornare alle quattro vaccinazioni obbligatorie invece delle dieci attuali che ci rendono quasi un unicum in Europa e abbiamo visto che le costrizioni vaccinali non portano a particolari risultati ma fanno semplicemente arrabbiare tante persone quindi così come io porterò questa modifica gli altri saranno liberi di proporne altre e almeno si parla di sanità anche in Parlamento che raramente ciò viene fatto le piacciono i centri d'accoglienza temporanea dislocati in Albania o in altri posti? non è stata un'idea mia né del mio partito ma mi sarebbe piaciuto averla se devo dire quindi complimenti al presidente che l'ha avuta perché al di là dei costi e così questo tipo su cui sicuramente si può ironizzare ma tante volte nelle migrazioni c'è la deterrezza cioè far sapere a diciamo futuri possibili migranti che invece di arrivare in Italia arriveranno in Albania magari li dissuade dal partire gli ultimi due temi polemici uno è importantissimo siamo tutti d'accordo per la pace cominciamo dall'Ucraina e io quello che le chiedo però come ci si arriva alla pace che tutti vorremmo che cosa deve fare l'Europa voi siete sostanzialmente un po' butto orto collo come partito sull'invio delle armi a Kiev Salvini lo fa per disciplina di coalizione ma non ha mai nascosto diciamo questa specie di insofferenza però c'è anche chi dice che se smettiamo di dare le armi agli ucraini i russi in un mese arrivano a Kiev ed è tutto finito tanto è vero da qui l'accusa che vi viene fatta spesso come partito di essere una specie di alleato sotterraneo di Putin in Europa io l'ho messa così così tanto per litigare un po' insomma oppure fare un'agenzia un po' più pepata dai abbiamo dormito un po' oggi pomeriggio siamo stati corretti politico li corre adesso un po' di scorrettezza alla fine noi ovviamente non abbiamo mai ricevuto mezzo rublo da Putin né lo vogliamo ricevere il discorso però è abbastanza semplice cioè la politica dell'invio delle armi costante in questo momento ha semplicemente portato avanti a trascinarsi una guerra che forse diciamo se fosse terminata un anno fa pur ahimè con la cessione di qualche territorio da parte da parte dell'Ucraina avrebbe ottenuto delle condizioni migliori rispetto a quelli che potrebbe ottenere oggi e siamo convinti che sono convinto che potrebbero essere migliori se si facesse la pace oggi rispetto a quello che potrebbe ottenere fra un anno e nel frattempo di mezzo un sacco di morti bisogna essere realisti insomma non è che continuando a mandare armi o con l'escalation e così via bisogna avere un punto di fine cioè il ragionamento di Meloni era mettiamo i due contendenti su un piano di parità perché così agevoliamo la pace ho capito ma bisognerà arrivare a un momento dove evidentemente questa strategia si vede che non funziona e quindi forse in certi casi la pace va forzata non credo che ci sia nessun interesse anche da parte della Russia di conquistare l'Ucraina anche non potrebbe mantenerla oggettivamente perché la popolazione si ribellerebbe però insomma almeno chiuderla lì penso che sono stati già sufficienti morti quindi noi non saremo più a favore incondizionato di invio di armi in Ucraina Lei è come il suo segretario già pro-Trump? Sì sì io sono sempre stato pro-Trump anche a che tempi della prima della prima elezione sono stato recentemente a Washington abbiamo preso contatti precisi con tanti membri influenti del partito repubblicano cosa che ci consentirà di essere più preparati rispetto a quello che abbiamo fatto in passato quindi diciamo che non credo che ci saranno più altri tweet in favore di Giuseppi ecco mettiamola così senta una cosa faccio una domanda su una cosa particolare sono state le celebrazioni doverose in Normandia del D-Day insomma con tutti i grandi del mondo anche europei insomma anche ovviamente le istituzioni italiane insomma è lì dico doverose perché tanti giovani sono morti per liberarci dal nazismo e assicurarci le democrazie che oggi noi abbiamo su questo siamo d'accordo anche tanti giovani che venivano da lontano come dall'America però la cosa che mi ha colpito è questo slogan che l'Ucraina sarà la nostra Normandia su questo bisogna fare un po' attenzione perché la Normandia per quanto ripeto oggi nella lettura storica è stata una cosa doverosa straordinaria eroica è stata anche un massacro insomma è stato anche una carneficina giusto? Beh io penso che chi fa questi paragoni sia oggettivamente ma non io non capisco come si possa lanciare dei proclami che inneggiano alla terza guerra mondiale sapendo cosa potrebbero essere le conseguenze cioè adesso stiamo parlando di potenze nucleari insomma non scherziamo a me sembra veramente che troppa gente o hanno visto troppi film o pensano che le cose siano fatte solo con i videogiochi o similari ma hanno perso il senso della realtà una cosa è già è stata una tragedia una tragedia un conflitto locale come può essere quello fra Russia e Ucraina immaginate cosa potrebbe essere un allargamento del conflitto alla Nato o similari sono cose che contro una potenza nucleare che messa a spalle al muro non so se esiterebbe a usare il suo arsenale quindi io penso che veramente bisogna stare molto molto attenti con certi parallelismi lo sbarco in Normandia è stato un momento di liberazione ma i nostri stati erano invasi ecco non so come dire era giusto perché siccome sono finiti questo pensiero in molti titoli oggi sui giornali era giusto secondo me anche esaminarlo e senta tu ci si infundo allora lei a qualche giorno di distanza hanno chiarito tutti gli interpreti del pensiero del capo dello Stato i costituzionalisti hanno interpretato articolo 11 della Costituzione che cos'è la sovranità nazionale e la sovranità europea il suo segretario insomma è intervenuto a carmierare lei oggi venerdì 7 chiederebbe di nuovo le dimissioni di Mattarella per quello che ha detto quel giorno? ma il punto è che io non le ho mai chieste è la notizia questa ma no ma non è una notizia l'ho sempre detto io ho fatto un ragionamento perché c'è un se io quel tweet lì lo riscriverei paro paro cioè nel senso lettera per lettera ma bisogna anche saperli leggere il tweet dice se il Presidente della Repubblica pensa che la sovranità sia europea non italiana a quel punto la sua funzione non ha più ragione di esistere dovrebbe essere molto semplice il Presidente della Repubblica è il detentore diciamo l'impersonificazione della sovranità italiana nel momento stesso in cui uno dice che la sovranità europea e non specifica altro cioè non è che dice sono parte della sovranità cosa di questo tipo quella dichiarazione aveva detto consacreremo la sovranità europea punto lì quindi diciamo che probabilmente si è espresso male perché se questa espressione dovesse essere confermata a quel punto significa che abbiamo una persona che pensa che la sovranità sia europea allora nel qual caso non capisco che cosa serve un rappresentante di sovranità italiana insomma sono stati fatti allora se il suo pensiero è stato interpretato un po' male anche quello di Mattel è stato rienterpretato e lì si riferiva appunto a questo articolo siamo capiti come si direbbe oggi facciamo gioco delle interpretazioni uno è stato interpretato troppo da una parte uno troppo da un'altra in mezzo c'è l'idea però lo diciamo per chi non sta tutti i giorni a leggere la Costituzione che nell'articolo 11 c'è scritto che in determinati contesti e il liberamento noi possiamo cedere pezzi di sovranità a un organismo sovranazionale no? no 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 c'è scritto che allora innanzitutto mi ha fatto sempre molto ridere della gente che pensa che l'articolo 11 ma adesso dobbiamo leggere il peccato che non l'ho portato però insomma no beh comunque dice allora la Repubblica consente limitazioni di sovranità che non sono l'accessione di sovranità in condizioni di parità per comunque una cosa delle cose che mi hanno fatto più ridere in questi giorni di polemica è stata gente che dice che l'articolo 11 è pensato per l'Unione Europea ma nel 48 quando la Costituzione è stata fatta la gente non ce l'aveva neanche per la testa l'Unione Europea ecco mi verrebbe da dire quell'articolo lì è stato pensato per per l'ONU quindi delle organizzazioni sovranazionali a cui si poteva demandare qualche compito ma mai nessuna c'è n'eccessione di sovranità ecco va bene quella appartiene al popolo senta ma insomma alla fine per chiudere fondamentalmente in questo suo viaggio nel territorio andiamo al di là delle polemiche parliamo di cose per i cittadini che sensazione ha avuto cosa richiede la gente per cui chiudiamo quali sono le due o tre cose che trova che sono nella testa dei nostri cittadini i cittadini hanno qualcosa in testa che secondo me coincide pochissimo col dibattito pubblico che facciamo tutti i giorni ma vede gli aspetti pratici della vita dei cittadini vengono smiscerati spesso e volentieri nelle elezioni politiche io sono fresco ovviamente di che sono passati meno di due anni insomma di elezioni politiche dove ho girato tutto il mio collegio che era molto grande ho fatto 7000 chilometri e così via e lì le persone hanno delle idee molto precise in termini di tasse in termini di strade in termini di di spazzatura insomma delle cose che impattano nella vita di tutti i giorni per quello che riguarda invece l'aspetto europeo questa campagna elettorale ho trovato molta gente molto d'accordo cioè alla fine mi hanno detto finalmente state ricominciando a essere chiari nel dimostrare quello che volete perché vi devo dire la verità quando vi ho visto il governo con Draghi ho vacillato mettiamola così viceversa tanta gente che ci aveva votato proprio per combattere l'Unione Europea vedere insomma una campagna elettorale con noi così chiaramente schierati in posizioni eurocritiche anche con lo stesso slogan più Italia meno Europa ha dato coraggio a molti e dicono guarda è l'ultima se mi fai un'altra roba che poi voti la Wonder Lion che voti Draghi e così così tipo vengo a prenderti a casa però questa volta ti do ancora fiducia e quindi io sono convinto che insomma ci sarà un buon risultato va bene io la ringrazio ci sentiremo dopo il voto per un fact checking insomma complessivo delle cose dette delle cose promesse del giudizio degli elettori e quindi insomma io però per ora le auguro buon lavoro e bocca all'uvo come ho fatto con tutti i candidati perché insomma nella nostra bella democrazia per quanto malata fragile malandata insomma ancora i cittadini sono liberi e vanno a votare senza quello lì che sta nelle urne col fucile giusto? quindi voi vi sottoponete domani e dopodomani al loro giudizio cosa devono scrivere sulla scheda? Claudio ha detto Borghi cosa devono scrivere? no sono anche un detto semplicemente ho un Borghi detto Borghi Aquilini se per caso qualcuno scrivesse è complicato però le sai che bisogna essere sempre ma Borghi X sulla Lega X sulla Lega e scrivere Borghi di fianco guardi di diarete io non sono un vecchio comunicatore più si è semplice è meglio si ricorda non ho degli omonimi quindi va benissimo fare semplicemente la X sul simbolo del partito e scrivere di fianco Borghi però nel Lazio Toscana Umbre e Marche in altre regioni purtroppo no l'unico che ha la fortuna di essere candidato su tutta Italia è Vannacci ha visto che non gli ho fatto una domanda su Vannacci mi sono astenuto ho visto basta che non si astengano chi sta seguendo andate a votare che è un momento bellissimo va bene grazie ancora grazie a lei grazie a chi ci ha seguito appuntamento abbiamo ancora due puntate entro stasera di primo piano elezioni europee ma dopo se no poi non facciamo in tempo Borghi dobbiamo montare e pubblicare se no poi c'è il silenzio e veniamo denunciare vuol dire che si è trovato bene vuol dire che deve molto bene va bene ciao arrivederci arrivederci a tutti arrivederci Brachino grazie ciao